Adesso i 5 stelle si aggrappano al super bonus 110%. D'altronde, vedendo franare, a poco a poco, il reddito di cittadinanza che continua a fare acqua da tutte le parti al netto dei furbetti pentastellati ora non intendono ammainare un'altra bandiera. E così si mettono di traverso rispetto alla misura che incentiva le ristrutturazioni edilizie licenziata dal governo. Per il partito di Giuseppe Conte, sono due i punti su cui intervenire, la soglia ISEE a 25.000 euro e i controlli previsti dal decreto voluto dal presidente Draghi e dal ministro Franco, come sostengono i deputati dell'M5SAN, Riccardo Fraccaro, Luca Sute e Patrizia Terzoni. Già perché per i pentastellati, la stretta del premier appare un po' troppa. E dire che parliamo di non sperperare il denaro pubblico come avviene con i furbetti dell'RDC. E ciò imbarba anche al richiamo dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui i vari bonus hanno generato in un solo anno frodi per 850 milioni di euro. Ma per i pentastellati, invece, è in arrivo una fitta selva di controlli che di fatto disincentiva in modo piuttosto esplicito l'agevolazione. Di conseguenza, il Movimento 5 Stelle ha già presentato un emendamento in Senato, contenente correttivi, profondi, al super bonus 110%. La logica dell'ISE e a nostro avviso va del tutto superata e passaggi burocratici sono da sfoltire e ridurre al minimo. Continuano a ribadire i deputati 5 Stelle che non mancano di sferrare un colpo basso al premier. Anche la tesi, secondo alcuni media vallata dal presidente Draghi, di una presunta correlazione tra il super bonus e l'aumento dei prezzi delle materie prime a priva di fondamento, puntellano Fraccaro, su deterzioni. Intanto, la stima contenuta nella relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio parla di un costo del super bonus al 110% di circa 14 miliardi dal 2022 al 2037. Il costo stimato per gli interventi sulle villette unifamiliari con tetto ISE a 25 mila euro, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, è invece di 795 milioni per le case di edilizia popolare di 96 milioni, mentre per i condomini e le persone fisiche circa 13,2 miliardi di euro. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS